Il suo primo ricordo pensando a Pio Maroso nel giorno delle intitolazioni della Curva Nord? Ma ci sono tanti ricordi, mi ricordo quando sono arrivato io, 18 anni, lui qualche anno più di me è capitano, un giocatore che trasmetteva grinta, tutto, e poi è stato giocatore, allenatore, presidente, ci sono tanti più, penso che non potesse fare, comunque penso che sicuramente rimarrà nel cuore di tutti i tifosi della Juventus, del Varese sicuramente, e poi sarà ricordato con affetto da tutti i varesini, da tutti i varesotti e da tutti quelli che lo conoscevano perché c'era personalità, grinta e cose. Io ti ho un saluto, ciao Pio. Grazie.